Ecco il sindaco di Leggio Calabria, Giuseppe Raffa. Sindaco, una giornata questa di oggi dedicata a un politico ma adesso è diventato un simbolo. Cosa significa per la nostra provincia e per i calabresi tutti? Un politico, un simbolo e anche un amico perché con Franco abbiamo condiviso alcune battaglie all'interno di un partito che è la democrazia cristiana. Io dico che serve che la memoria non venga archiviata e che serve soprattutto che questo momento tragico non solo per la famiglia, per Maria Grazia, per i figli ma per il nostro territorio in genere lascia un segno positivo dal quale effettivamente si può rinascere. È stato un momento di svolta che ha lasciato un segno positivo e quindi bisogna coltivarlo nel tempo e implementarlo. Oggi la presenza di Fini, di Alfano e di tante autorità ci deve capire che lo Stato ci è vicino e su questo dobbiamo appunto dare il nostro contributo come amministratori locali e continuare in questo percorso. Bene, grazie. Grazie, Gina.